E salve a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video Vi ricordate che avevo detto che avrei fatto un video su Frozen Flames? Ecco, l'ho fatto, avevo anche scritto che dura 5 minuti, infatti durava 5 minuti Ma non ero convinto, quindi ho detto, eh aspetta un attimo, fammi vedere se avevo qualcosa di tarco Perché mi ricordo forse avevo registrato una partitina o qualcosina che mi sembrava simpatico E così è stato, quindi ho detto, why not? Perché Frozen Flames non mi sembrava chissà che cosa da pubblicare, sinceramente Perché è un gioco dove vai a giro, fai la tua casa, poi vai a giro, lutti, vai a giro, farmi, vai a giro, lutti, torni a casa, dormi, fine Quindi, sì, questo non è un video di Frozen Flames, ma è un video di Tarkov Perché non ero convinto, sinceramente, di portare un video su Frozen Flames Dove me lo sono riguardato, riguardato, riguardato Ho detto, no, via, si vede che proprio a quanto pare non c'era tanta voglia di farlo Di caricare una roba del genere, quindi meglio di no Però me ne approfitto per dirvi che sono partner con G-Portal Io ho potuto giocare a Frozen Flames, appunto, grazie a G-Portal E che cos'è G-Portal? È un provider di server, quindi se volete un server di DayZ, Scam, Rust, Ark, insomma E tutti questi giochi, anche Dead Matter Ma potete andare sotto in descrizione e c'è il link Insomma, c'è il mio link dove se acquistate da lì avete già un 5% di sconto Mi sembra su qualsiasi acquisto di qualsiasi server che voi fate E, sinceramente, io mi ci trovo bene Cioè, il mio vecchio server di Scam lo fece appunto con G-Portal E GG per loro, insomma, non ho mai avuto problemi Questo video, sinceramente, non so quanto durerà Perché ho clip piuttosto corte Ma che mi faceva piacere pubblicare Giusto anche per parlarvi di sta cosa di Frozen Flames E del fatto che sono partner con G-Portal Sennò, poverini, mi hanno fatto partner Mi hanno dato tutte le cose da mettere I loghi o le cose per streamare, eccetera E non posso perché sono due mesi che non porto video O mannaggia anche a quelli di Dead Matter Che gli ho chiesto un video Ancora non ho avuto Cioè, se potevo portare un video Ancora non ho avuto risposta Era, tipo, un botto di tempo E quindi, niente Io vi lascio un pochettino al video Scusate se non porto video spesso Ma, sinceramente, vabbè A parte che questo è stato un anno di merda Per chi lavora Ma soprattutto chi lavora anche nella gelateria Perché, sai, i ristoranti alla fine Anche loro lavorano Tutti quelli con cui ho parlato E magari hanno ristorazione Addirittura dicono No, no, guarda che Questo è stato il miglior anno Beati voi Perché non è così per noi E comunque è stato Un anno piuttosto stancante Che non mi ha dato voglia Di portare, sinceramente, video Ecco E poi, voglio parlare anche Di un post che feci E dove dicevo che Avrei portato più avanti Avrei iniziato a portare Qualsiasi cosa Basta che mi andava E non più rimanere Sul target di Tarkov Quindi anche Insurgency Potrebbe essere Un DayZ Un'arma O tutti sti giochi Che rispecchiano un po' il canale Ma vorrei iniziare a portare Se dico Vabbè, mi va di fare video su sto gioco Lo faccio E niente Infatti sto pensando Di portare Cyberpunk Quando uscirà Anche se sarà pieno di gente Però probabilmente Ho pensato di registrare Ti gioco cinque ore Registro cinque ore Carico video da trenta Minuti o venti minuti Mi importa una sega Non taglio un cazzo E vaffanculo E carico tutto Tanto ora che Al lavoro Ho la fibra E ci metto un attimo A caricarli Video Quindi E niente Penso di aver rubato Già più del dovuto A questo video Ho fatto questo video Soprattutto per la scusa Di parlarvi appunto Digiportal Quindi niente signori Godetevi gli ultimi minuti Di video Senza la mia voce Bella Potente Soprattutto quanto Ci sarà comunque la mia voce E quindi niente Dai Vi lascio veramente Sappiate che Dopo questo video Non significa che Arriverà un video al giorno A settimana O al mese Arriverà Un video ogni tanto Quanto mi va Quindi niente Signori Spero di riuscire a portarvi Sto cazzo di video Di Dead Matter E niente Ci si becca in giro Ciao ciao Copri la Cooper Senti la porta Io guardo se Avviene qualcuno da qua Sì aspetta Sto prendendo Lasciamo un momento da qua Oh vieni Questi sono alla cassa Normale Passiamo da dietro Va Che dici Ah guarda Hanno abbassato I cespugli qua Per vedere Se arriva qualcuno La cespuglianza Vada è bellina Ma nel lato sinistro Ci può stare gente È aperto Questo lato Sinistro Sì Da cazzo Sì Non occhio Sta cassa Darmi Se non mi arriva Una cecchinata In testa Facciamo No andiamo tutto indietro Nella zona nuova La voglio vedere Eh da questa parte È la zona nuova Doveva saltare qua Perché c'è il murerotto qua Se si passa dalla old Non mi ricordo Lo sa che non ci sono No dall'altro Mi sa che non si può passare Non c'è un passaggio No Forse da un video Ho visto che c'è una porta Oh c'è uno Anzi sono due Due scav Due scav player Uno è qui in questo Uno è morto che merda Uno è morto che merda sta cosa Uno è in quella destra E che cazzo Dai Ma scusami Con che cosa mi ha sparato Ok Non l'ho fatta Brutto infame Incredibile Un colpo di pompa L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Vedessi da che cazzo Di distanza T'ha fatto Che pompa L'ho visto L'ho visto Era lì nell'angolo a destra Giù in fondo Della costruzione Infatti dico Cioè Tutto mi stavo anche Mettendo al riparo Cazzo Vado a bere Giocate l'altro Cazzo 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 Cazzo